28. Compagni di ascolto Perché molti sono distratti durante le riunioni in cui parlano i maestri? Commento Molti frequentano le riunioni spirituali non tanto per quello che ascoltano dai maestri, ma per quello che riescono a ricevere dagli altri compagni di ascolto. Infatti è più semplice trovare risposte nella nostra realtà piuttosto che nella superiore realtà che ci attende.